per la grande preparazione è divulgatore nella pace nel mondo individua subito la presenza di malefici malocchio fatture negatività in ambienti e persone il mago letterius ti darà la felicità perduta e la gioia di vivere porterà la serenità nella tua casa distruggendo per sempre il male se hai problemi al lavoro se tuo figlio è cambiato e ribelle se sei alla ricerca dell'anima gemella se vuoi far luce sul tuo futuro affidati con fiducia alla grande forza che è dentro il mago letterius la forza tramandata dal padre dal nonno e dal suo bisnonna l'amore per il prossimo le arti divinatorie sono doti che si possiedono naturalmente proprio per questo il mago letterius mette a tua disposizione la sua esperienza e la sua energia soprannaturale per dare una svolta decisiva alla tua vita i consigli chiari e preziosi del mago letterius ti porteranno la gioia di vivere il mago letterius è specialista di alta magia rituale è tra pochi al mondo in possesso di autentici manoscritti rimasti per effettuare purificazione in ambienti e persone puoi contattarlo e fissare un appuntamento più vicino alla tua città al numero 335 65 92 908 affidati con fiducia ritroverai finalmente la felicità non è vero che bisogna rassegnarsi impotente